Grazie a tutti, sono Michele Bolognese e sono un ricerciatore nel Centro di Energia Sostenibile di FBK. Il Centro covera diversi tematici, all'esercizio dei sistemi di idrogeno a batterie, materiali e scenari di energetica territoriale. Inoltre, nel Centro crediamo fortemente che per un futuro sostenibile e per un cambiamento di paradigma di energia della nostra società, sarà necessario adottare non solo una soluzione tecnologica, ma una combinazione di soluzioni. La mia giornata di FBK è iniziata anni fa e è stata una esperienza rilasciata per contribuire simultaneamente ai diversi temi nel Centro. Durante questo anno, il mio principale focus è stato su attività di modelli di dinamica a livello di simulazione di sistemi. Inizio con l'esplorazione delle tecnologie di solare, analizzando l'integrazione di processi industriali in energetica per decarbonizzare il processo e minimizzare la consumazione di combustibili fossili. Subseguentemente, inizio all'acqua elettrica di diversi strumenti di energia di energia, come batterie, supercapacitori, elettrolyzer e modi. Dopo creare un modello elettrico equivalente per ogni strumento, abbiamo esplorato le strumenti di energia di energia, come inverter, dual-active bridges o DC-DC converters, che erano necessari per coppare questi strumenti. In questo caso, studiare una strategia di controllo appropriata per il modello di dinamica, era essenziale per operare questa collezione di strumenti efficaci, definendo quello che chiamavamo la grida smart. Sono poi coinvolto in un altro progetto dedicato alla depolymerizzazione delle poliolefine catalyptiche. In questo esplorio, abbiamo cercato di modellare dinamicamente la reazione e tutte le componenti di una planta dedicati alla converzione dei plastici in combustibile olio. Ora ho stato immerso nel studiare dei sistemi di idrogeno per anni. In questo campo, la mia esperienza si concentra principalmente sul studiare dei balancio di elettrolyzer di solido di solido. Il modellamento dinamico di questi sistemi coinvolge il sviluppo di modelli orientati obiettivi, basato su la massa e la converzione di energia di energia, in modo da analizzare il comportamento del sistema sotto diverse condizioni operative. L'estudio si tratta da fase di stilizzazione preliminari alla fase di stilizzazione di stilizzazione, alla fase di modellamento di modelli subseqüente. Questo implica non solo creare modelli per alcuni ritorni, anche per il ruolo cruciale dell'elettrolyzer nel balancio di planta, ma anche per implementare una struttura di controllo appropriata per gestire le zone funzionali efficaci. Il modello è strumentale nell'evaluare i comportamenti di planta su diversi stati operativi, come il calcio pieno, il calcio parziale, il stand-by e il modello di niente, e la transizione tra questi stati. Per il sistema idrogeno è essenziale di studiare la implementazione di controllo di strategia adeguatamente perché permette l'operazione efficace dell'elettrolyzer, maximizzando i giorni operativi dell'elettrolyzer, l'absorzione di energetica e la produzione di energetica e la produzione di idrogeno verde. La versatilità dell'applicazione di idrogeno, ranging da usi industriali industriali, all'applicazione nella industria chimica e ai strumenti di settori di chimica, per un futuro di energetica sostenibile, e spero di contribuire a questo trasformativo. Grazie.